La partita di oggi col Chievo è stata una partita a cui noi tenevamo tantissimo, sia per dimostrare che gli approcci nelle ultime partite non erano stati sbagliati, ma bensì sono stati degli episodi che ci hanno indotti un pochino a recuperare la partita. Oggi abbiamo voluto dimostrare la nostra forza, ci siamo voluti divertire, sono contento del gioco espresso dalla squadra, sono contento del risultato e sono contento dei margini che abbiamo avuto di miglioramento. Questa è una squadra che sta crescendo partita dopo partita e ci sarà da divertirsi. Noi dobbiamo vincerle tutte, ogni partita per noi è una finale, quindi noi giocheremo tutte le partite con la stessa voglia e la stessa determinazione di vincere. Ci teniamo alla maglia, ci teniamo a Napoli e vogliamo portare questa squadra in Serie A.